amo leggere attivamente è la guida per l'insegnante che presenta tre diversi metodi di ludodidattica il lapbook è uno di questi applicato ai diversi generi della narrativa la fiaba il romanzo di avventura il racconto di paura le grandi biografie e la narrativa storica il primo che incontriamo sfogliando la guida è quello relativo al genere della fiaba con l'immagine guida del castello aprendo il fascicolo con i template troviamo i cartoncini per realizzare le diverse parti del castello le porte e il template della struttura dove andranno incollati tutti i balconcini con all'interno le diverse card da inserire in ogni pagina ci sono le istruzioni per ritagliare e incollare ed ora ecco il lapbook nella sua versione definitiva apriamo i battenti del castello e scopriamo tutti gli elementi che compongono la storia qui troviamo alcuni esempi tra cui il protagonista l'aiutante il tempo e il luogo i bambini potranno personalizzare il lapbook inserendo tutti gli altri elementi largo alla fantasia e buon lavoro Before A And a 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 Grazie per la visione!